è fantastico com'è grande te lo dicevo wow dove va? ehi cazzo non sarà pericoloso ehi, cos'è? sembra, non so, che sia vivo ma è proprio vero guarda ora, ehi Mike, guarda ora fortissimo ma è pazzesco, è fantastico oh mio dio siamo in aria voliamo un momento stiamo sognando andiamo a sognare ehi, fai delle foto, Mike stiamo sognando diteci prendiamoci per mano la mano e senza fare cadute si neanche i gabbiani in alto come noi ehi, Mike senza mani una sola si 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 Oh! E questo... Peon! E questo... ...voce questo? Oh! Ah! 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 E questo... No! Ragazzi, dove siete? Mike, Tissi! Non c'è nessuno! Dove siamo?